Mamma mia, ancora la melo. Che partita di la melo finora. Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz Ambieri va a bella zona, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, Reaction lunedì mattina, buona settimana a tutti, ma si parte. Ed eccoci qui, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, Kyrie Irving che gioca in casa, mamma mia. Si è tornati alla normalità e tra l'altro ragazzi, non per dire, ma Kyrie Irving sta discutendo un'estensione contrattuale di 5 anni a 240 e passa milioni di dollari, il che vuol dire che bastava solamente risolvere la questione Covid e che in realtà, bella palla di Kevin Durant, che in realtà tra Kyrie Irving e KD non è mai corso cattivo sangue, ecco, mettiamola così. È di fatto uno scontro diretto, signori, è di fatto uno scontro diretto per, diciamo, il settimo, scusate, l'ottavo e il nono posto, il che vuol dire che arrivando ottavi hai due possibilità di raggiungere i playoff, arrivando noni ne hai una sola. Quindi partita comunque importante tra le due, partita importante tra le due, squadre quasi al completo, manca ovviamente il lungo degente Gordon Hayward da una parte e manca il lungo degente Ben Simmons dall'altra, di cui si sa veramente poco e non è ancora ben chiaro se dovrebbe riuscire a rientrare o meno. Da qui a fine stagione, anche perché mancano due settimane, gran movimento di Miles Bridges. Nel frattempo, Kevin Durant e Kyrie Irving, sufficienti per riuscire ad arrivare fino in fondo partendo da così in basso? Domanda che pongo a voi. Rispondete qui sotto nei commenti. C'è il dragone, c'è Kessler Edwards, che schiaccia piano piano in campo aperto, anzi in contropiede. Andiamo ancora, Andre Drummond, e qua si vede la mancanza di un centro decente in quel di Charlotte. Ci sarebbe Montreselone Arrell in panchina, ma ultimamente, intanto classico, eccolo, classico canestro di Kyrie Irving, in transizione dalla sua mattonella. La mattonella di The Shot, qua forse sfondamento, invece fischiato fallo alla difesa. And one di Miles Bridges, col fallo di Perry Mills, mentre Drummond e la sua enormità nera. Ragazzi, veramente è enorme Drummond, è enorme. Qua Kyrie Irving, long two, rarissimo long two, più 12 nets. Più 12 nets, forse passi, chi lo sa, comunque bel canestro. B. Seth Curry, ancora più 8, Charlotte che prova a rimanere attaccata comunque alla partita. Tra l'altro, le magliette di Charlotte, bella azione dei nets. Le magliette di Charlotte intinta con la scritta Barclays Center per terra. Che qualità, che qualità, ragazzi. Ancora, Miles Bridges, di sinistro, va ad appoggiare al vetro. Meno 5, Charlotte, ragazzi. Tira e molla, vediamo ancora Martin, ancora Bridges, schiacciata. Due squadre che comunque sono divertenti, ragazzi. Due squadre che più o meno giocano bene, hanno dei principi di gioco molto simili. Attaccano molto velocemente. Da una parte magari hanno due realizzatori che a Charlotte si sognano, ma probabilmente a Brooklyn non hanno un giovane con le visioni di la Melo Ball, qua. Nel frattempo, KD arriva al ferro, easy. Più 4 Brooklyn all'inizio del terzo periodo, qua. Palleggio, arresto, tiro, la Melo, meno 1 Charlotte. È una partita equilibrata, signori. È una partita equilibrata ed è una partita apparentemente da ritmo playoff con la Melo che va ancora con la tripla e vantaggio Hornets. Attenzione, altra tripla di la Melo. On fire, clamoroso la Melo. Ancora. Beh, vedete? Cioè, questa, ragazzi, è una palluccia di la Melo mica male. 74 pari. Abbiamo una partita. Abbiamo una partita. KD passa dietro. Lo punisce Miles Bridges. Brooklyn Nets. Dramond, fucilata di Dramond in faccia al giocatore degli Hornets. Mamma mia. Tentato omicidio di Andre Dramond, and one, di Mason Plumlee. Attenzione, attenzione, perché gli Hornets vincendo questa partita potrebbero addirittura ambire all'ottavo posto e scalzare i Nets che andrebbero a questo punto al nono. Mamma mia. Ancora la Melo. Che partita di la Melo finora. Più 10 Charlotte. Più 10 Charlotte. Urge. Urge un KD. Urge un KD, signori. Urge un KD, figurati se non tira. Mamma mia. La Melo. Dominio al Barclays Center. La Melo Ball, signori. E qua inizia a esserci una sfida. Uno contro uno. Tra la Melo e Kevin Durant. Durant. Ancora palla lunga. Perry Mills. Arriva Goran Dragic. I Nets tornano sotto all'inizio del quarto periodo. Più 4 Charlotte. Bellissima partita. Ancora KD. Palleggio. Arresto. Mid-range. In faccia a Nonna Papera. Meno 2 Nets. Meno 2 Nets. Rimbalzo ancora però. Terry Rozier. Più 4. Partita tesissima, signori. Ci si gioca molto in questa partita. Ci si gioca moltissimo in questa partita ancora. Il Dragone. Con il canestro del meno 4. Oh, c'è anche Isaiah Thomas in campo. Che fa. Blocco di Isaiah Thomas per Mason Plumlee. La NBA è al contrario, signori. La NBA è al contrario. Mentre chiaramente... L'eroe che non ti aspetti. Ancora. Più 9. Si corre. Si corre. Con Seth Curry. Si corre. Si corre. Ancora. Isaiah Thomas in campo. Nel Clutch Time. Canestrino di Isaiah. Mamma mia. Più 6 ancora per Charlotte. È il momento di Kyrie Irving che arriva facile al ferro. Ancora. Più 4 Charlotte. 4 minuti e 40 alla fine. Bellissima partita. Bellissima partita. Ancora di sinistro. Forse col fallo. Meno 2. Meno 2. Meno 2. E palla in mano. Ancora Kyrie. Mette. Mamma mia. Mamma mia. Più 1 Brooklyn. Che giocatore. Che giocatore. Mentre PJ Washington arriva al ferro. È punto a punto signori. È punto a punto. Qua. Non ci credo. Cos'è? Da 3? Non ci credo. Tripla su un piede solo di Cody Martin. E ora Nets spalle al muro. Ancora. Seth Curry. Seth Curry arriva al ferro. Meno 2. 1 minuto e 20 alla fine. Qua c'è. Una stoppata di KD. E poi altra tripla di Cody Martin. E forse qua c'è la parola fine. C'è la parola fine. Brooklyn con la tripla di Terry Rozier. Finisce qui. 116. A 110. Addirittura tripla di Miles Bridges. Charlotte sbanca il Barclay Center. Charlotte sbanca il Barclay Center. Signori. I Nets rischiano addirittura di arrivare noni. I Nets rischiano di arrivare noni. E quando si scherza col fuoco. Signori. Quando si scherza col fuoco. Rischi di bruciarti. PJ Washington 18. 24 Miles Bridges. 33. Sontuosi. Con 7 su 12 da 3. Dilla Melo. 14 di Terry Rozier. Dall'altra parte abbiamo 27 di Kevin Durant. Ma 9 su 24. 10 di Bruce Brown. 20 e 17 di Andre Drummond. 16 e 11 assist di Kyrie Irving. 12 di Seth. Curry. Signori. Vittoria importantissima per gli Charlotte Ornez. Che adesso si giocano veramente tutte le chance per arrivare ottavi e scalzare i Nets. Nets che rischiano. L'ho detto. Hanno rischiato tutta la stagione con Arden. Giocando male. Giocando a tratti contro voglia. Con Kyrie Irving. Praticamente mai in campo. E adesso si trovano veramente con le spalle al muro. In una situazione molto difficile. Dovessero arrivare addirittura noni. Non possono proprio permettersi di sbagliare nessuna partita. Ovvio che hanno il talento per poter arrivare. Per poter arrivare comunque ai playoff. Ma ragazzi stanno rischiando. Ma stanno giocando veramente col fuoco. Detto questo. Ci vediamo in pausa Franzo. Per commentare ulteriormente le partite della notte. Perché ce ne sono state anche altre di molto importanti. Il sondaggio ha fatto vincere Brooklyn Charlotte. C'è andata bene. Perché è stata una bellissima partita tirata fino alla fine. Andremo più in profondità. Come detto in pausa Franzo. Alle 12.50. Barra 13. Su Twitch. Buona giornata. Buona settimana a tutti. Il Franzo. Buona giornata. 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 Grazie a tutti.